E' cambiato il nostro giudizio sul Presidente Mattarella, è sempre stato quello di adesso, l'abbiamo conosciuto in passato, io l'avevo conosciuto anche in modo particolare quando stavamo trovando un candidato per le passate elezioni presidenziali, prima di Napolitano, e ho di lui un giudizio molto positivo e mi sembra anche che questo inizio del suo settennato sia stato da apprezzare. Non abbiamo quella continua dichiarazione su dichiarazione giornaliera di altri precedenti Presidenti della Repubblica e, l'ho detto a lui anche, mi sono distinto da lui e dalle sue affermazioni soltanto in un'occasione, quando ha fatto le condoglianze troppo tenere e troppo delicate per la morte di Castro, che non si può pensare, è stato un personaggio della storia, ma ha fucilato 20.000 cubani, ha messo in galera 100.000 cubani, ha sottoposto Cuba ad essere uno stato in miseria, in cui vigeva e vige ancora il terrore, uno stato di polizia. E quindi mi sembrava, e io l'ho detto e gli dico, mi sembra assolutamente non dovuto queste condoglianze a tutti voi.